a pesero un natale fra nuove attrazioni e obblighi di mascherina estorsione e usura arresti da foggia la provincia di pesaro protezione civile nuova sede per 150 volontari finalmente vl pesero ritrova il successo dopo sei sconfitte buona serata amici telespettatori amiche telespettatrici rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati ad una nuova settimana con l'informazione serale di rossini news il nostro telegiornale che in questo lunedì 22 novembre apriamo con una bella ventata natalizia nonostante più di un mese ci divida ancora dal 25 dicembre però si stanno completando già gli allestimenti in questi giorni delle attrazioni natalizie nel centro storico di pesero tante novità ma anche tanta attenzione alla sicurezza compreso l'obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi del natale come mercatini durante le ore pomeridiane manca un mese e tre giorni al 25 dicembre al natale natale che nel centro storico di pesero torna con lo slogan pesero nel cuore tanti eventi ma con un sottotitolo il natale dappertutto perché perché in tempo di pandemia non ancora purtroppo debellata tutte le accortezze del caso verranno utilizzate in queste celebrazioni natalizie ed ecco che ci sarà un natale diffuso con iniziative nella piazza in piazzale matteotti in piazzale lazzerini in via curel come illustrato oggi nel comune di pesero dal quale vi parliamo o meglio dalla terrazza del comune di pesero con l'albero di natale della piazza del popolo alle nostre spalle abbiamo cercato di portare diciamo a casa come si dice sportivamente e delle attrazioni che sono molto interessanti e una su tutte quelle del villaggio di babbo natale che è un villaggio che verrà che è stato allestito in questi giorni a rocca costanza e su via curel abbiamo voluto in qualche modo anche qui portare un'attrazione che è l'ice slide che è lo scivolo per bambini e famiglie e anche questa ecco abbiamo cercato di diffondere il più possibile il natale quest'anno in tante zone ecco e quindi in via curel tutta la zona di piazzale lazzerini avremo questa bella attrazione poi un'altra cosa importante abbiamo chiuso una collaborazione con dna coccole sonore e che in pratica per circa 15 giorni porteranno un programma molto interessante dedicato ai più piccoli e con diciamo dei gazebo che sono sparsi tra piazzale lazzerini e piazzale con eluccio dove ogni weekend si accenderanno delle delle bellissime iniziative confermata la pista di pattinaggio come ogni anno al centro della piazza confermati i mercatini tipici e anche questi li faremo in maniera diffusa perché oltre alla piazza toccheremo sia via san francesco via pedrotti piazzale con eluccio e piazza mosca saranno festività pesaresi con nuove attrazioni ma in massima sicurezza per evitare assembramenti l'accensione dell'albero di natale della piazza verrà infatti effettuata senza cerimonia così come si è scelto di aggiungere all'obbligo di green pass nei luoghi delle attrazioni anche l'obbligo di mascherina in centro storico nelle ore pomeridiane cerimonia d'accensione si l'abbiamo ecco voluto evitare era il momento clou che inaugurava il natale ma non diciamo ce la siamo proprio sentita perché visto il momento avere circa 5.000 persone in piazza che comunque sia in qualche modo partecipano a questo momento diventava un po' ecco molto complicato sotto diciamo i termini di sicurezza e controllo. Continuiamo ad essere una delle città più attrattive durante il periodo natalizio anche grazie ai mercatini di natale che a partire da Candela e Candelara si risvolgeranno ma anche un natale super sicuro perché purtroppo ancora siamo dentro la pandemia abbiamo bisogno di affrontare queste settimane delicate con grande rigore per cui non solo ci sarà il green pass obbligatorio per entrare a tutti gli eventi e tutte le attrazioni che ho elencato poco fa ma abbiamo deciso nel pomeriggio di introdurre la mascherina obbligatoria in tutto il centro storico nelle vie interessate dai mercatini un po' come avviene per il mercato del martedì essendo diciamo comunque prevedendo comunque una concentrazione di persone anche se all'aperto è ancora più più forte soprattutto in quella fascia oraria inoltre probabilmente andremo incontro a un green pass rafforzato questo non dipenderà da noi dipenderà dal governo però è ovvio che l'invito è a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati di farlo perché è l'unica protezione che abbiamo magari il Natale porterà porterà buon consiglio e al tempo stesso dobbiamo accelerare la terza dose perché come abbiamo visto anche quello sarà fondamentale per contrastare al meglio questa quarta ondata e andiamo nel dettaglio a conoscere anche alcune delle novità fra le attrazioni del Natale di Pesaro tanta curiosità ad esempio sul villaggio di Babbo Natale che si sta allestendo in piazza in piazzale Matteotti affacciato su Rocca Costanza e che sarà inaugurato proprio nel prossimo weekend un'attrazione costruita dall'intervento di EA Comunicazione della quale ne abbiamo parlato con il responsabile Michele Di Stefano sono tre le attrazioni principali casa di Babbo Natale ufficio postale e ricovero della slitta parliamo per intenderci la casa di Babbo Natale è alta 7 metri a 70 metri quadri di superficie ed è vivibile all'interno si troveranno delle scenografie realizzate da scenografi tra i più importanti d'Italia il ricovero della slitta si potrà salire su questa slitta che è alta 3 metri con tutta la famiglia e farsi fotografare e poi l'ufficio postale dove i bambini potranno scrivere o da casa e quindi portare letterine piuttosto che scrivere sul posto e verranno imbucate dagli elfi che si arrampicheranno sulle pareti e andranno a imbucare su un casellario fatto apposta per lasciare appunto il messaggio a Babbo Natale quindi vivremo due tipologie di esperienza una è quella più legata all'aspetto visivo quindi vedremo per la prima volta queste strutture e l'altra invece è un aspetto più di trasporto emotivo abbiamo all'interno del villaggio realizzato un contenuto per far vivere la vera emozione del Natale è un contenuto, è un musical che si chiama appunto Natale da favola dove si racconterà la magia del Natale e questo verrà grazie alla collaborazione con Elena Ronchetti che è il direttore artistico di tutto il villaggio e quindi attori professionisti insomma ci faranno vivere questi momenti il villaggio aperto dal primo weekend dall'ultimo weekend di novembre quindi 27-28 rimarrà aperto tutti i weekend si aggiungerà poi il 7 e l'8 di dicembre quindi l'Immacolata e poi dal 23 dicembre tutti i giorni fino ad arrivare al 6 di gennaio con l'arrivo della Befana Lei ha voluto precisare in conferenza stampa che ci sarà un ingresso a pagamento di 15 euro motivandolo per quello che offre il villaggio e anche per l'investimento importante a vostro carico Sì allora intanto è un investimento da privati quindi ringraziamo il Comune per ciò che ha messo a disposizione quindi spazi e la loro disponibilità organizzativa per fare in modo che tutto possa andare bene ma poi l'investimento è tutto quanto nostro quindi è un'esposizione di circa 250.000 euro che grava sulle nostre spalle abbiamo voluto fortemente farlo perché crediamo al territorio chiaramente il villaggio si può questo investimento si può sostenere solamente con una parte di sponsor e il resto sono gli ingressi dunque vendiamo biglietti attraverso una piattaforma che è CiaoTicket il biglietto costa 15 euro ha detto bene prima mi riferivo al fatto tanto poco perché poi è facile giudicare ma io dico che è meglio giudicare dopo aver guardato ciò che è veramente dopo aver vissuto quell'esperienza lì da parte nostra cerchiamo di dare senso a quei 15 euro per cui riteniamo che sia il posizionamento corretto per quello che offriamo e cambiamo radicalmente argomento passando alla cronaca due arresti all'alba di questa mattina in seguito alle perquisizioni effettuate a Fano nei comuni di San Nicandro e Lucera in provincia di Foggia perquisizioni effettuate dalla DIA Direzione Investigativa Antimafia gli arrestati sono indagati per usura e distorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso le indagini coordinate dalla DIA di Bari durate oltre un anno hanno permesso agli investigatori di ricostruire dei prestiti operati con tasso usurario superiore al 300% oltre 40 uomini della DIA con il supporto dei reparti di polizia carabinieri e guardia di finanza hanno svolto perquisizioni e sequestri nei confronti anche di altri soggetti indagati e a Fano è finito con un arresto anche il tentato furto all'ufficio postale di Viale Piceno consumatosi ieri attorno alle 22.30 un 21enne di origini africane ha forzato una finestra del bagno penetrando all'interno dello stabile delle poste ma non ha fatto i conti con il sistema d'allarme pronto l'intervento della polizia di Fano che ha colto in flagrante il malvivente ed ora la sanità sono partite questa mattina alle 10 le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-covid agli over 40 marchigiani prenotazioni che alle 16 avevano già superato quota 10.000 persone con circa 700 già vaccinatesi in accesso diretto oggi intanto si registra una giornata di leggera flessione della percentuale di contagio in regione che scende sotto l'8% con 93 nuovi casi positivi in linea al ridotto numero di tamponi delle weekend 33 i casi in provincia di Pesaro Urbino i ricoverati sono 91 di cui 23 in terapia intensiva oggi si registra il decesso di una donna di appena 45 anni di Civitanova Marche Rossini TV ha partecipato sabato pomeriggio alla inaugurazione della nuova sede della protezione civile che si trova in via Lombardia e che a breve sarà affiancata anche dal drive tamponi di Pesaro vediamo i 150 volontari di protezione civile di Pesaro hanno una nuova casa sabato pomeriggio si è tenuto il taglio del nastro alla nuova sede in via Lombardia nei locali adiacenti al mercato ortofrutticolo dal sindaco Ricci al prefetto Ricciardi dai comandi delle forze dell'ordine ai vertici regionali della stessa protezione civile in tanti hanno voluto partecipare ad un unico grande grazie all'infaticabile azione di volontari moltiplicatisi nell'emergenza Covid volontari coordinati dall'applauditissimo Ugo Schiaratura che ora possono godere di spazi più adeguati quella di prima c'era poco spazio qui invece c'è spazio sufficiente per fare le nostre attività se abbiamo molto spazio esterno possiamo fare anche addestramento perché la protezione civile ha bisogno anche di fare addestramento perché noi dobbiamo essere sempre pronti quando interveniamo sulle cose che si chiamano e ovviamente non veniamo non siamo professionisti del soccorso ma siamo gente che ha fatto tutti i tipi di lavoro e noi intanto ci raddestriamo con le pompe con le motoseglie tutto quello che può servire per dare una mano alla gente penso che c'è un gruppo di 150 volontari è sufficiente per coprire anche i servizi che facciamo i tamponi e i vaccini da più di un anno a questa parte e tutte le richieste che ci arriva dalla società diciamo così perché siamo stati a Marotta siamo stati adesso una settimana fa e siamo stati anche in altri posti dove ci chiedono riusciamo anche a coprire quei servizi lì non solo la sede l'occasione è stata anche quella di presentare ogni linea d'azione del piano d'emergenza della protezione civile comunale illustrato dal geologo Luca Mosca e dal responsabile regionale David Piccinini abbiamo tante persone che hanno dato la loro disponibilità e continuano a darla abbiamo una richiesta continua di iscrizione tant'è che l'obiettivo è quello di abbassare il limite minimo di età quindi di portarlo a 16 anni come succede in altre situazioni quindi sarà un modo anche per educare i ragazzi al civismo devo dire che i volontari in questi mesi poco fortunati per il nostro paese hanno dato cuore energia e tanta voglia di fare e hanno dato risposte importanti alle esigenze dei cittadini dal presidio dei punti vaccini ai tamponi al consegnare la spesa a casa si sono resi disponibili diciamo dalle feste alle situazioni quelle un pochino più delicate come amministrazione comunale abbiamo individuato in questo spazio un luogo ideale perché ci sono gli uffici ci sono i servizi c'è un ampio spazio per il parcheggio e la sosta dei mezzi di cui la protezione civile comunale è dotata e devo dire che il nostro gruppo di protezione civile è attivo anche pronto a sostenere anche criticità di altri comuni come è successo anche i giorni scorsi sono intervenuti a Marotta lo fanno sostenendo il punto tamponi di Fano quindi è un grazie e questo qui vuole essere un momento non solo per presentare il piano di protezione civile comunale ma anche per ringraziare i tanti volontari che danno una mano a tutta la comunità Sede della protezione civile che dal primo dicembre lavorerà a gomito con il nuovo drive tamponi che verrà allestito proprio in via Lombardia dopo l'esperienza in strada dei cacciatori archiviata ad agosto dal primo dicembre dovrebbero partire appunto i tamponi perché prima erano un centro operativo poi ad agosto sono stati spostati a Fano adesso siccome aumenta il numero lo riportano a peso lo riportiamo all'interno della nostra sede penso che possa andare bene per tutti è una sede che si presta abbastanza bene poi vediamo sarà facendo e giovedì come ogni anno ricorrerà per il 25 novembre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne un momento che a Pesaro verrà celebrato con tante iniziative concentrate mercoledì 24 e giovedì 25 novembre ce le illustra l'assessore alla solidarietà del comune di Pesaro Sara Mengucci quest'anno inizieremo il 24 novembre al mattino ci sarà l'inaugurazione del posto occupato organizzata dalla biblioteca oliveriana in ricordo di tutte le vittime di violenza sulle donne in ricordo di tutte le vittime appunto e il pomeriggio abbiamo organizzato la presentazione del libro Core a Kabul poesie per l'Afghanistan con il curatore del libro Pietro Fratta e ci saranno alcuni interventi in particolare quello di Susanna Camusso che ha curato anche la prefazione del libro e Luca Radaelli infermiere di Emergency che è stato diversi anni proprio in Afghanistan abbiamo voluto fortemente l'intervento di Emergency perché il ricavato del libro sarà devoluto ad Emergency e l'obiettivo di questa iniziativa è proprio quella di concentrare nuovamente l'attenzione sulla condizione delle donne vittime di violenza purtroppo in Afghanistan e in generale la condizione delle donne appunto in questo paese il giorno dopo il 25 di novembre avremo il consiglio monotematico sulla violenza sulle donne che è ormai un appuntamento fisso per noi ed è molto importante in particolare ci concentreremo quest'anno sulla narrazione dei femminicidi quindi su tutta la parte della comunicazione ci sarà la giornalista Luisa Betty Dacli che prima del consiglio farà una piccola formazione proprio ai giornalisti locali e durante il consiglio oltre all'intervento della giornalista ci sarà anche l'associazione percorso donna con Laura Martufi e Francesca Santorelli che faranno un focus un'analisi proprio specifica sul catcalling e verrà presentata anche una ricerca di Laura Morazzini che è una segnista di ricerca dell'Università di Bologna proprio specifica sul catcalling quindi quest'anno abbiamo voluto concentrare il consiglio comunale sulla parte della comunicazione sia dei media e sia proprio anche la comunicazione verbale quindi le moleste di comunicazione verbale approfondendo il tema del catcalling per noi è ovviamente sempre molto importante concentrare l'attenzione su questo tema che purtroppo come spesso ripeto non tende a diminuire e per noi è fondamentale continuare a fare sensibilizzazione e promozione di tutte le attività a contrasto della violenza sulle donne nella chiesa di San Paolo Apostolo di Pesaro si è tenuta questa mattina la funzione religiosa della Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri un momento di raccoglimento ed orgoglio per l'arma celebrato alla presenza del nuovo comandante provinciale Gianluigi Cirtoli insieme a rappresentanze di Carabinieri e di Forestali sia in servizio che in congedo presente anche Sua Eccellenza il prefetto di Pesaro Tommaso Ricciardi e da questa mattina invece il Parco Miralfiore accoglie dell'albero della pace alla presenza di tanti bambini delle scuole pesaresi è stato infatti piantato un albero di Ginkgo Biloba che è nato dai germogli di Ibakujumoku che sono stati recuperati dalla Green Legacy Hiroshima Initiative dopo la tragica bomba atomica di Hiroshima si tratta di un albero simbolo di resilienza e messaggero di pace street art che si fonde con il dialetto quella del grafico artista pesarese Filippo Giovanelli che dopo le opere realizzate a Pesaro e già esportate in Puglia lo scorso anno ora approda in Sicilia con un intervento grafico nel comune di Calta Vuturo in provincia di Palermo ed ora lo sport come sempre ricco come ogni lunedì finalmente è tornata alla vittoria la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ieri sera ha espugnato Cremona vince anche l'Ital Service pareggia la Vispesero perde invece la Megabox Vallefoglia spaventatasi per il malore occorso al suo allenatore Bonafede vediamo tutto in questo servizio dopo sei sconfitte consecutive la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ritrova la vittoria a Cremona finisce 84-88 per Pesaro che sale a 4 punti in classifica ancora ultima ma ora in coabitazione con la Fortitudo Bologna riscattata la prova con Napoli con una prestazione di livello seppur con qualche pausa che ha rimesso in discussione nel finale un match che aveva visto Pesaro in controllo prima vittoria per Banchi che finalmente si gode una prestazione convincente di Sanford idem per Moretti oltre all'ottima gara di Jones e del solito Delfino dal basket al volley dove la cronaca si è mescolata allo sport l'allenatore della Megabox Vallefoglia ha infatti accusato un malore durante la partita che vedeva le sue ragazze impegnate a Scandicci Bonafede si è sentito male nell'intervallo fra il terzo e il quarto set è stato portato via in barella dal Palasport e visitato all'ospedale Fiorentino di Torregrossa dove è stato subito dimesso al momento l'ipotesi è quella di una reazione allergica dovuta ad una intolleranza alimentare Bonafede ora sta meglio ed è potuto rientrare a Vallefoglia con la squadra una Megabox che ha perso al tiebreak dopo che si trovava in vantaggio 2-7-0 nel calcio è finita con un piatto 0-0 la sfida fra Visse e Carrarese con i pesaresi che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte al cospetto della big del torneo ma incappano in una domenica opaca e senza un fatta per un arrembante finale di partita un pari che soddisfa più l'ex bomber di Udinese nazionale Totò di Natale che il mister pesarese Banchini è mancato secondo me quella esuberanza quella voglia di dominare l'avversario che devi avere in queste partite è quello che dico sempre la partita emotiva l'abbiamo vinta l'ultimo quarto d'ora perché prima invece è stata sempre in equilibrio e quando giochiamo in casa dobbiamo essere in grado di far percepire questo soprattutto ai nostri avversari io faccio il complimento in tanti ragazzi perché hanno fatto una grandissima battita contro una squadra che gioca ben calcio noi siamo venuti qui a cercare di fare le nostre cose credo che noi fino a ottantesimo abbiamo fatto una battita l'abbiamo fatta noi non sono stati bravi negli ultimi dieci minuti però credo che se meritiamo qualcosa in più noi va bene anche il pareggio seconda vittoria consecutiva per il Fano la prima con mister Cappellacci in panchina Casol e Licaxio firmano il 2-0 in casa dell'Alto Casertano ultima in classifica grande vittoria anche dell'Ital Service che al Palafiera stravince lo scontro d'alta classifica con l'Olympus Roma finisce 5-1 con le reti di De Oliveira Taborda Canal Onorio e Spindola inutile il gol dell'ex Marcelinho Sicilia Mara invece per la Fiorini Pesaro Rugby che a Catania perde 30-22 e si conclude qui questo nostro notiziario del lunedì Rossini News prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento del nostro lunedì sera che alle 21.20 inaugura la nostra prima serata con un'altra puntata di Check Up Obiettivo Salute la sesta puntata alla presenza del dottor Giovanni D'Agostino che ci parlerà di Ostruzione Nasale programma che Rossini TV realizza in collaborazione con Fisioradi Medical Center alle 21.20 prima replica alle 23.15 a seguire invece alle 21.30 storie racconti di successo nella provincia di Pesaro e Urbino un format di intervista dedicato questa sera a Gianfranco Tonti presidente della IFI appuntamento alle 21.30 ed è ricominciata anche un'altra settimana in compagnia di casa Rossini tanti ospiti ogni sera nel salotto di Paolo Pagnini per chi si fosse perso la prima edizione di oggi delle 19 alle 23 c'è la prima replica della puntata di casa Rossini ospite lo vedete in grafica Massimo Berloni nuovo sindaco di Fossombrone dallo scorso mese altre repliche domattina alle 10 e alle 15 e 15 e con questi appuntamenti chiudiamo questa edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi auguro una buona continuazione di serata in compagnia dei nostri programmi di Rossini TV di Rossini TV